Susa, al liceo Rosa di Susa le lezioni continuano su Skype. Visto il prolungarsi del periodo di sospensione delle lezioni per l'emergenza coronavirus previsto dal 4 marzo dal liceo arriva una risposta organizzativa. Il liceo Rosa ha prontamente risposto all'invito fatto alle scuole di attivare modalità di didattica a distanza. Il liceo utilizza già da molto tempo la piattaforma educativa Edmodo. È un ambiente di apprendimento online, come base della trasmissione di contenuti, di scambio di materiali tra docenti e classi. Seguendo dunque le disposizioni vigenti, i docenti hanno avviato modalità di didattica a distanza. Come valido strumento per non interrompere il contatto con la classe e con il fine di accompagnare gli studenti nel loro percorso di studio. Vengono sfruttate le comunicazioni tramite registro elettronico e attraverso gli indirizzi mail forniti dall'istituto. Poi vengono mantenute vive le comunicazioni con le proprie classi con disponibilità di contatti online. Soprattutto è stato ampliato l'utilizzo della piattaforma educativa Edmodo. In questo modo si offrono spunti di lavoro, indicazioni metodologiche, materiali, link a video lezioni sia tratte dal web che realizzate ad hoc dai docenti. Visto il prolungarsi della sospensione delle lezioni in aula, in questo periodo si è aggiunto l'utilizzo di altri applicativi web. Soprattutto delle videoconferenze su Skype. Per mezzo della quale molti docenti svolgono vere e proprie lezioni seguendo il normale orario scolastico. Gli interventi messi in atto durante la settimana scorsa. Grazie a tutti.